Quando penso a lei, non mi sono mai sentito così. Perché adesso? Peter, tu conosci i canti del nostro popolo. Narrano che ciascuno di noi è nato con un miracolo dentro di sé. E quel miracolo è destinato unicamente a una persona in particolare. E quando ci avvicina, l'universo viene in nostro aiuto e ci dà una mano a compiere il nostro destino. L'universo ci aiuta. E in che modo? Mettendo al nostro fianco degli spiriti guida. A volte parlano con noi attraverso i bambini. Spesso assumono l'aspetto di animali. Uno di loro è Atansor, il cane dell'est. A volte assume l'aspetto di un cavallo bianco. È probabile che quella ragazza sia la persona a cui è destinato il tuo miracolo. Sì. Se è così, sta attento. Anche il caos ha i suoi agenti. Di che stai parlando? Bene e male? Angeli e demoni? Questi sono alcuni dei nomi più nuovi. Io so soltanto che... sono attratto da lei. Come dall'aria quando sono sott'acqua. Allora perché stai ancora qui a parlare con me?